...d'istruzione a Salerno, si sono morsi anche i precari della scuola, che hanno effettuato un premio in anzi alla grande guerra del lupo mare cittadino. La Germini è stata aspramente contestata, il ministro però non ha visto i contestatori in quanto è giunta nel Salone dove si celebra il convegno dei democratico cristiani da un ingresso secondario. Cosa risponde a questa sede? Ma io dico che sicuramente hanno tutti i dubbi di protestare, di esprimere posizioni diverse, resta un fatto. Credo che il futuro del Paese passi dalla capacità e anche dal coraggio di mettere mano al sistema dell'istruzione, alla scuola, all'università e penso che chi difende la conservazione, chi pensa che si possa ridurre il problema della scuola ad una semplice questione aradinoeristica che non abbia fuori il futuro degli studenti e i futuri dei giorni. E stamani sulla vicenda del ministro Carpagna con una nota.